Siamo con il Presidente del CSV di Catanzaro e Provincia Luigi Cuomo. Presidente, possiamo fare un breve bilancio della giornata di sabato scorso, 26 settembre. Volontari insieme ha soverato Villa Comunale, poi la giornata si è conclusa con il concerto di Paolo Vallesi, che siete riusciti a realizzare all'aperto, nonostante il tempo minaccioso. La giornata ha raccolto, ha unito le varie associazioni di volontariato, i vari movimenti del territorio. Insomma, una giornata positiva e produttiva, sicuramente proficua. Sì, abbiamo tutta la situazione del Basso Ionio, ci hanno dato questa mano perché abbiamo cominciato da marzo a organizzare questa giornata. Siamo arrivati al 26 settembre, ringraziando il Signore, il tempo ci ha tenuto, tutto a posto. Devo ringraziare il Comune di Soverato che si è messo a disposizione a darci tutta la Villa Comunale. Siamo partiti dalla mattina dalle 10 con i cani cinofoli dei Carbinieri, tutte le associazioni. Il pomeriggio abbiamo cominciato con tutte le associazioni a fare i vari spettacoli. Presidente, una giornata dedicata quasi completamente alle tematiche ambientali. Abbientali, sì, abbiamo tutto sull'ambiente, infatti parecchie associazioni hanno fatto tutto sull'ambiente, sulla spazzatura, sul tema dell'eolico, tutte queste cose. E cosa è scaturito? È scaturito che la gente che è venuta è stata molto contenta, ha visto quello che fanno le associazioni sull'ambiente, sul volontariato. Si è parlato maggiormente di volontariato pure. Sono tante le associazioni che operano sul territorio provinciale, anche per conto del Basso Ionio, l'area del Soveratese. Siete riusciti un po' a metterle in rete, almeno per una giornata? Ma noi come CSV stiamo facendo questo, di mettere in rete tutte le associazioni, perché le associazioni devono stare in rete. Se non fanno rete non si tradi loro, non si riescono a capire. Bene, allora Presidente, esperimento ripetibile, magari per il prossimo anno? Ha soverato per il prossimo anno, già il sindaco ci ha contattato perché il prossimo anno vuole organizzarlo di nuovo. Adesso ci stiamo muovendo per farlo sia sul Catanzaro sia sul Soverato.